All'insegna della ripartenza e l'Etna Comics di quest'anno, Catania è vista come un simbolo di ripresa e resilienza, un po' come l'iscrizione latina, motto del capoluogo etneo, Melior Decine Resurgo, che figura nella porta a Ferdinandea e che il maestro Gabriele Dell'Otto riporta nel manifesto dell'edizione 2022. Quest'anno il tema è la rinascita, quindi l'araba fenice, non c'è niente di meglio che quello che è rappresentato nel fortino di Catania, quest'aquila con Melior Decine Resurgo, che è la frase per eccellenza della catanesità, cioè la capacità di rinascere dalle ceneri, di ritornare a essere più forti di prima e che le difficoltà non possono altro che migliorare piuttosto che distruggere. Credo che questo sia un bellissimo momento rappresentato da questo bellissimo manifesto, un manifesto intenso che ci dà la sensazione proprio della ripartenza, con Etna Comics riparte un settore colpito in maniera pesante da questa pandemia. La pandemia ha provato a piegarla, ma la grande energia oggi di Antonio Mannino, del team di Etna Comics, con i suoi dieci anni, con i suoi 500.000 visitatori, con la ricaduta e i numeri che porta in una città come Catania, dà l'idea di quanto bisogno ci sia di tornare a portare questo immenso indotto di lavoro che solo la filiera degli eventi può fare. La manifestazione si terrà presso il centro fieristico Le Ciminiere dall'1 al 5 giugno. Nel cuore storico di Catania, il CAF Playa di Buio Giuseppe offre l'assistenza e la preparazione che cerchi e servizi davvero gratuiti. Per la vostra comunicazione e pubblicità aziendale contattateci al 338 37 922 71.